Forse è vero. Ci ritroviamo tutti dentro vita che non ci aspettavamo. Ma io ho imparato che... agli uomini potenti non serve la crudeltà. Mi era stata garantita una vita. E io l'avrei vissuta. Avevo un piano. Crede che siamo arrivati dove siamo per farci intimorire da una banda di incestosi? Se è questo che secondo lei siamo, forse non ha fatto bene i suoi calcoli. Noi siamo segretari, banchieri, agenti di polizia e abbiamo perfino un giudice. E se lei osa farci la guerra, faremo piovere le fiamme dell'inferno su di lei e su tutto ciò che ama. Quindi mi sta minacciando con persone che sono più potenti di lei? Esatto. E perché le parlo allora? Andremo tutti all'inferno. Grazie. 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 Grazie.